Ciao a tutti ragazzi! In questo video di Minecraft giocare a Fortnite non sarebbe proprio la cosa ideale. Quindi chiudiamo Fortnite, apriamo Minecraft. La copia perché non so perché la copia. Va bene, ok. Andiamo su Minecraft. Ho fatto questa parete di barili e ho fatto una spada con affilatezza. Mi sono messo l'armatura e l'ho incantata. Sono protezione 1, poi protezione dai proiettili, i gambali sono protezione 2 e gli stivali sono protezione 2 e atterraggio morbido. Ok abbiamo sistemato l'inventario e andiamo in miniera. Ok. 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 qua dove abbiamo rotto i diamanti e qua dove sta la fonte di luce più grande. la fonte di luce immortale. mortale. Che fa morire. 3 minuti per arrivare in miniera. ora faremo in miniera. faremo in miniera più lungo perché gli altri in miniera vi sono piaciuti davvero. un moto. quindi lo faremo più lungo. è cortissimo. è una strada per arrivare in miniera. è tutto un casino perché di qua e di là tutto diritto. subito arrivi se hai il personaggio un poco più veloce che al posto dei piedi tiene i missili. ecco qui. ho visto i diamanti. io no ma qui c'è del carbone. però se ci lanciano una grigia siamo morti. ora riprendiamo le date e comunque il carbone lo prenderemo. mai perché siamo già ricchi. poi che importanza ha. prendere il carbone. il livello di esperienza è il 9 perché abbiamo incantato parecchie cose. qua c'è il nostro dungeon che ho già esplorato. questo è il nostro tunnel lunghissimo. termina proprio qui dove sta il ferro che ancora dobbiamo raccogliere. me lo sento proprio. saremo dei ricchi minatori quando usciremo da questo mondo. lo sapete che non ci usciremo mai nella vita. almeno che non si inguaia ma per ora questo mondo ci va bene. il carbone che do esperienza è sempre buono. il carbone è una ricchezza veramente. è una ricchezza veramente che serve molto a minecraft. e quanto ce n'è mamma mia chi sono? sono l'uomo del carbone. siamo già a livello 10 con tutto questo carbone. alla fine forse arriveremo al livello 90. quando ci incanteremo. ogni cosa che teniamo vicino. ogni cosa che vediamo e si deve incantare. ok rompiamo qui. e continuiamo il nostro viaggio. diamantozzi! solo 4 triste. a a a a a a vediamo altri diamanti da quel lato là e dice mamma mia ma chi sono che trova tutti questi diamanti in un colpa solo del sott'al ferro aveva messo la lava per fregare sergio non ci sia riuscito i blocchi cadono nella lava ma l'esperienza ci arriva sempre in a continuiamo questo viaggio in miniera mamma mia ancora altra redstone a livello di esperienza 12 ora siamo a livello 8 già 12 12 good molto buona very good and 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 Ok, io direi che facciamo un'altra germiniera, poi torniamo a casa. O meglio dire, torniamo in base. Ok, qui da lì? Ok, non so se siamo fortunati. Sì, sì, sicuramente. Bene. Torniamo a casa, che non abbiamo posto nell'inventario. E per ora... Quanto siamo ricchi? Vabbè... Lo possiamo accettare. Ah, e... Vediamo... Scaviamo il carbone che c'era, così prendiamo esperienza. Allora... 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 a speriamo di non morire prepara già la spada non mi sobra dai su e vediamo di sbrigarsi fino a salire questo circuito in verità è però molto lungo a salire ok diremo di qua andiamo di qua lo so che è not not e lassù c'è un enderman invece non sapete che possono puoi dormire soltanto di notte e va bene io ragazzi prima di tutto possiamo vediamo i diamanti 41 ok ragazzi io direi che per questo video è tutto qua da Sergio come ne è tutto noi ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video e vi ricordo di attivare la campanellina per non perdere tutti i nostri episodi e bye bye ciao 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 ciao